freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance passiamo al prossimo talk El e Lorenzo che ci parlano di automazioni per corsi online un caso di studio era stata fatta una richiesta da Luisa Casanova a Stua ma penso che sia un tema che interessa molte persone su come gestire e usare le automazioni ed ecco che voi ci portate un caso di studio sui corsi online racconteremo il caso studio di una nostra cliente che vende corsi online partendo dai problemi che aveva e di come li abbiamo risolti potenziando il suo sito wordpress e mailchimp Elena e Lorenzo a voi grazie allora ciao a tutti noi siamo Elena Lorenzo alias a cap of web è più facile che ci conoscete così online parleremo di questo caso studio di questa nostra cliente che aveva anzi vende ancora ovviamente corsi online e ci ha chiesto di migliorare quella che era la parte appunto della gestione del corso delle automazioni come condurremo questo talk noi praticamente vi spiegheremo la situazione iniziale di questa nostra cliente e cosa abbiamo fatto poi per migliorarla e ovviamente vi daremo anche dei consigli anche per voi se appunto avete bisogno di fare un corso online cosa abbiamo usato cosa vi consigliamo eccetera quindi partiamo dalla situazione di partenza la nostra cliente Giulia è una insegnante di inglese online quindi un mercato abbastanza competitivo lei aveva questo sito wordpress dove con l'aiuto di qualche amico si è fatta installare un plugin per gestire appunto il discorso dei corsi solo che era un plugin che permetteva davvero di fare pochissime cose e qui lascio la parola a Lorenzo il plugin era l'orepress che di per sé non è un plugin una piattaforma cattiva insomma non è che facesse niente di che è un plugin molto usato per magari creare dei corsi in modo gratuito insomma una cosa un po' semplice senza grosse funzioni per far qualcosa di gratuito e di veloce però ovviamente per le sue esigenze non era proprio non faceva proprio per lei perché principalmente mancava una gestione tipo degli studenti quindi una baccheca dove vedere chi era iscritto chi era iscritta vedere gestire anche solo un elenco degli utenti per ogni corso per esempio se voleva sapere quali utenti erano iscritti iscritte al tale corso non poteva farlo perché erano utenti normali di wordpress e doveva ricorreva agli elenchi che aveva lei per il sistema si faceva tutto a mano praticamente esatto quindi proprio una situazione un po' difficile da gestire soprattutto con i numeri comunque che aveva poi era stato fatto anche un po' non benissimo per cui c'era una marea di plugin per aumentare le funzioni appunto di questo Nordpress che però non era tutto in tutti un po' crocchi vari insomma una situazione un po' difficile che rendevano davvero difficile la gestione del dei corsi la gestione degli studenti poter scrivere agli utenti poter mandare dei certificati agli studenti visto che comunque essendo corsi d'inglese aveva bisogno anche questa necessità di dare certificati e quindi proprio il discorso automazione era ancora lontanissimo e quindi insomma si è ritrovato in questa situazione un po' difficile ecco da ottimizzare e appunto il Nordpress non rispondeva appunto alle sue esigenze esatto e ultima cosa il problema che aveva è comunque i video dei suoi video corsi li caricava per esempio su drive quindi linkava direttamente drive senza avere un modo per imbeddare i video all'interno del suo sito quindi noi cosa abbiamo fatto abbiamo cercato un po' di sistemare tutti questi problemi quindi prima cosa abbiamo cambiato il plugin che usava per gestire appunto i video corsi e abbiamo tolto l'earnplus e abbiamo installato invece l'iptel lms momento plugin esatto l'iptel lms è un plugin un po' più professionale richiede che una licenza pagamento ovviamente ma se appunto il business è fare corsi ovviamente bisogna comunque investire una piattaforma un po' più professionale permette tutte le cose che ho detto prima che non non faceva l'or press con lifterms si possono fare quindi c'è una buona bacheca degli studenti si possono vedere chi è iscritto quale corso si possono esportare le liste si possono gli abbonamenti gestire degli abbonamenti codici sconto fare dei bundle mettere in saldo insomma di tutto automatizzato quindi con le date di inizio di fine degli sconti no c'è davvero una gestione insomma un po seria e migliore e allora già quello appunto ha cambiato un po le cose infatti anche lei comunque era un po stupita da quello che si poteva fare perché appunto se il bundle avete intenzione di fare comunque dei corsi online insomma una parte importante al vostro business ovviamente bisogna investire sugli strumenti bisogna trovare lo strumento giusto perché spesso lo strumento lo strumento sbagliato limita e crea dei problemi nel suo caso appunto aveva bisogno dei certificati c'era tra i vari coinvolgimenti che si potevano inviare dei certificati e il tutto in maniera automatica anche qui si introduce il tema delle automazioni perché delle cose che possono sembrare banali ma almeno lifterms le faceva quindi email o certificati o qualcosa che si possono inviare secondo determinati trigger determinati inneschi quindi lo studente finisce una lezione si può inviare qualcosa lo studente finisce il corso si può inviare un'altra lo studente completa un quiz lo studente un passa un tot di tempo da ognuno di questi inneschi si può inviare qualcosa è tutta un'automazione che aiuta a coinvolgere appunto la studentessa o studente può servire appunto per magari fare un po di follow up per inviare un anche un messaggio positivo hai finito la lezione dare qualche consiglio e sono tutte tutte cose che possono servire coinvolgere mantenere il rapporto con gli studenti perché se finché magari sono corsi con poche persone siccome c'è una conoscenza diretta ok può sì lo si può fare a mano ma quando ci sono tanti numeri come l'insegnante in inglese ovviamente a serve comunque automazione proprio per liberarsi da questa sì perché prima appunto giulia faceva tutto a mano quindi mandare le mail tutto quanto era molto impegnativo per lei così hanno che aveva appunto diverse centinaia di iscritti quindi di studenti quindi automatizzare questa cosa le ha permesso risparmiare un sacco di tempo io appunto qui nominiamo lift rms perché è quello che usiamo ce ne sono altre per esempio l'ordash so che funziona ma alcune cose possono essere fatte anche tramite piattaforme esterne come per esempio think ife l'importante appunto è assicurarsi che lo strumento faccia le cose che volete fare quindi avete progettato vorrei automatizzare questo processo controllate lo strumento utilizzato lo faccia prima di mettersi a lavorare perché dopo è molto più difficile tornare indietro ecco quindi consiglio un po da portare a casa è quello pianificare bene le cose che si vogliono fare e controllare bene se lo strumento risponde a queste alle vostre esigenze e poi oltre al discorso di lms abbiamo anche rivisto quello che era l'account mailchimp di giulia perché lei usava mailchimp per mandare le mail ma le mandava proprio aveva una lista unica senza suddivisioni senza segmenti senza automazioni e noi invece l'abbiamo collegato a lms quindi al suo sito wordpress quindi praticamente l'utente quando si iscrive al suo corso automaticamente viene iscritto mailchimp anche lì tutte con le spunte per la gdpr quant'altro ovviamente e viene anche assegnato un gruppo con cui poi giulia può creare un segmento e quindi poter dire tramite mailchimp ok allora scrivo chi ha partecipato al corso x e non al corso y o magari chi è iscritto al corso x dato a tempo quindi può mandare delle mail molto più segmentate molto più adatte alle esigenze appunto dei singoli studenti invece che scrivere a tutta la lista o magari farsi a mano la lista scaricando via excel e l'elenco degli iscritti ecco dopo ecco non a proposito di gdpr non farsi prendere la mano di iscrivere tutti alla propria lista iniziare a spammare cose promozionali ovviamente rispettate il fatto che se avete iscritto quelle persone a quel gruppo si ma si inviano email solo relativa a quel corso anche perché a livello di spunte da far accettare bisogna scrivere appunto che li si iscrive anche a mailchimp al gruppo emailchimp però si inviano email solo legate al corso quindi poi se volete che si iscrivano anche alle newsletter fate una mandata un'email apposta che poi probabilmente sì perché comunque se una persona iscritta al corso è iscritta newsletter però attenzione con un po la gestione del trattamento dei dati che è sempre un po delicata esatto ultima cosa per le automazioni un'altra cosa che abbiamo fatto per giulia ma anche per noi in passato la crea abbiamo creato un test per creare una sorta di funnel automatizzato per attirare appunto potenziali clienti quindi con giulia abbiamo creato questo test sempre sul suo sito sempre su wordpress anche qui con un plugin apposta che qui dopo Lorenzo eventualmente parlerà con cui l'utente fa il test viene fuori la risposta del suo profilo a cui corrisponde nel caso di giulia era il suo livello di inglese in base al profilo possono partire delle mail anche a quel tipo di persona lì quindi mi è venuta la risposta a ho questo profilo quindi ricevo questa sequenza di mail magari collegata a mailchimp e quindi anche questo può essere molto utile come funnel proprio sia di acquisizione sia che poi di vendita per scaldare un po gli utenti iniziali già verso il corso più adatto a loro che appunto è quello che abbiamo fatto per lei ecco nel suo caso non avevamo creato il funnel perché non c'era l'esigenza era comunque un test aperto a tutti a tutti però qui era stato usato un semplice plugin di forms quindi era fluent form se ricordo bene l'importante è che ovviamente si possano fare vabbè creare delle tipo tipo quiz quindi comunque delle risposte non ho scelto multiva ma scelta singola e che si possa creare un punteggio quindi assegnare un valore a ogni campo e che questo valore poi possa passare usare e gestirlo per creare appunto il risultato in questo caso ogni risposta veniva dato un valore questo valore poi veniva sommato e da questa si poteva creare una pagina personalizzata per fasce di punteggio e così in ogni pagina appunto ognuno che faceva il quiz aveva la sua la sua risposta con la pagina personalizzata per fasce con consigli invito a scriversi alle newsletter così e così si creava comunque già un po' di coinvolgimento e di interesse per il per il corso e come diceva Elena è un attimo qui farlo diventare appunto un funnel quindi magari prevedendo l'iscrizione alla propria newsletter o qualche fribi o qualcosa per poter già iniziare a incanalare creare interesse verso il corso e poi portarle appunto sulla sua piattaforma si con le automazioni qui su mailchimp che arrivano appunto a seconda della risposta che sta data il profilo diciamo del test a livello gdpr è ancora più delicata perché comunque è una profilazione questo se taggate gli utenti a seconda del livello comunque c'è un tag che viene messo questo è una profilazione quindi a livello gdpr va dichiarato bene così fate anche per questo non l'abbiamo fatto perché era bello che fosse aperto questo discorso del test però se lo volete usare come funnel attenzione sempre dato gdpr esatto ultimissima cosa dicevamo appunto che prima giulia usava caricava i suoi video su drive adesso invece li abbiamo fatti mettere su vimeo perché ha un vantaggio anche rispetto magari a youtube vimeo con l'account a pagamento la cosa più positiva è che si può decidere chi può vedere quel video quindi si può dire questo video può essere visualizzato solo da quel sito lì quindi diciamo che l'ur del video non può girare non è che uno si copia l'ur del video se lo guarda da un'altra parte o lo passa in giro lo può proprio mettere solo sul suo sito così è sicura che le persone guarderanno le lezioni sul suo sito e appunto non gireranno e non verranno spammate in giro ecco non le impedisce di registrare lo schermo così però lì c'è proprio del dolo un po' estremo però insomma almeno c'è appunto questo blocco di dominio quindi si può vedere solo lì non si può appunto cliccare andare sul link del video quindi è comunque una sicurezza in più per chi fa del videocorsi il proprio business grazie